Grazie a tutti. A prescindere da dove uno si trovi a lavorare questa mattina, diciamo che il coronamento di sacrifici di morti, perché il suddetto personaggio dovrà scontare alcuni argastoli fra gli altri per la morte di Falcone Borsellino. Quindi a prescindere da cosa uno stia facendo questa mattina, è una bella giornata.